Viva la fine! Sono felice di essere tornata a casa finalmente e di poter riabbracciare tutti quelli che mi hanno sostenuto in questo percorso. Chi vuoi ringraziare in questo momento? In realtà tutti, tutto il team che c'è dietro, tutte le persone che mi hanno cresciuto da quando sono piccola e tutta l'Italia che mi ha sostenuto in questo evento così importante. E' una cosa che avrebbe fatto qualunque allenatore. Ma che cosa è successo? Di che cosa deve andare a dirgli? Con compostezza ma anche con molta determinazione. No, no, in quelle posizioni basta scrivere il contesto che, diciamo, lei realmente ha esercito e chiedere una verifica. Eri strasicura però, immagino. Eri determinata.